Dobbiamo ora considerare i vari problemi relativi alla partecipazione al procedimento amministrativo. È un aspetto completamente nuovo, questo per la nostra pubblica amministrazione del 1800 e in parte del 1900. La novità è costituita dal fatto che rispetto alla pubblica amministrazione il privato non è un soggetto passivo o peggio un suddito. Conviene rammentare che all'inizio dello Statuto Albertino 1848, che è durato cento anni, il re si rivolgeva ai suoi amatissimi sudditi. Oggi il cittadino, il soggetto, è qualche cosa di diverso perché partecipa, può partecipare al procedimento amministrativo, ha diritto di essere informato di ciò che lo interessa, ha diritto di intervenire nel procedimento e può pervenire anche ad accordi con l'amministrazione anche in sostituzione del provvedimento amministrativo. Sono state quindi previste in queste recenti leggi, specialmente nella legge 241, una serie di obblighi e di facoltà per la pubblica amministrazione, che adesso enumeriamo e poi vedremo come sono stati sviluppati dalla giurisprudenza. Innanzitutto, quello che si è già accennato, l'obbligo di comunicare personalmente all'interessato e agli altri interessati, l'avvio del procedimento. Secondo, la facoltà per qualunque soggetto interessato, anche se portatori di interessi diffusi, di intervenire nel procedimento. Come si manifesta questo intervento? Lo vedremo in seguito con la giurisprudenza, ma possiamo già stabilire che questa facoltà si estrinseca nel diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Terzo, la facoltà dell'amministrazione in accoglimento di osservazioni e proposte contenute nelle memorie del privato, memorie, atti, documenti, di concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o di altro provvedimento sostitutivo. Quarto, obbligo dell'amministrazione di predeterminare, quindi di determinare prima e pubblicare i criteri e le modalità relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone o ad enti pubblici e privati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Ci si rende conto solo dalla enunciazione di questi obblighi e facoltà del grande cambiamento che è stato previsto per la pubblica amministrazione e quindi tutto questo che serve anche per sollecitare attraverso la conoscenza di questi criteri e modalità la partecipazione dei singoli fa vedere un notevole cambiamento che vi è stato rispetto alla pubblica amministrazione del passato. Su queste regole che ho succintamente esposte vi sono le norme della legge 241 con le recenti modifiche dagli articoli 9 in poi sui quali si è svolta anche l'attività della giurisprudenza. Esaminiamoli brevemente, poi nel testo le sentenze saranno riportate nelle parti essenziali. Esaminiamo il problema dell'articolo 9. L'articolo 9 prevede che anche i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono partecipare. La giurisprudenza quindi mantenendo fermo quanto stabilisto dall'articolo 9 però ha detto possono partecipare, c'è la possibilità, non c'è un diritto di partecipare e quindi tutto questo dà la possibilità di dare, quindi consentire a questi portatori di interessi diffusi di prendere nota e di comunicare all'amministrazione e di essere interessati. Insomma il privato, il soggetto non è un estraneo o come si è detto con parola antica un suddito e gli può partecipare. Naturalmente anche coloro che sono titolari di interessi, non soltanto interessi qualificati ma anche di interessi diffusi. conviene anche precisare che questa attività, questa partecipazione stabilisce un contraddittorio procedimentale che si svolge nell'ambito dei procedimenti amministrativi, quindi riguarda una posizione verticale ancora tra il privato e la pubblica amministrazione, però è una funzione collaborativa, una funzione partecipativa. Insomma facciamo un esempio, i proprietari di immobili che sono stabiliti nelle immediate vicinanze di un'area destinata a un determinato servizio pubblico, esempio prima accoglienza di cittadini comunitari o extracomunitari, hanno titolo di intervenire nel procedimento esaminando gli atti? La risposta è sì, questa è una forma di partecipazione. Abbiamo anche altri casi dove il proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di permesso di costruire è un soggetto che può intervenire. Non vi è alcun obbligo per l'amministrazione di comunicare a questo ulteriore soggetto l'avvio del procedimento, però questa persona può poi partecipare. Bisogna anche stabilire un'altra cosa, che questo diritto di partecipazione non comporta automaticamente la legittimazione processuale, quindi intervenire in un processo, perché in questo caso sarà sempre l'autorità giudiziaria che avrà il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente ha una effettiva legittimazione processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato. Come si vede anche questo problema della partecipazione non è partecipate tutti o tutti possono partecipare. La regola generale è la più ampia partecipazione, però bisogna anche qua vedere le singole ipotesi che sono state poi stabilite negli articoli 9 e seguenti della legge 241. Nella prossima lezione o conversazione esamineremo i vari problemi che sorgono dall'articolo 10.